ciao a tutti da iota e bentornati sul canale oggi proveremo genforce 1 mutagen e scusate l'intro ma l'audio era veramente forte molto forte e sound volume non era ma era il background sound che era la musica e mi stava distruggendo le orecchie comunque sia non è un problema proviamo questo gioco una preview come tutte le preview questo gioco non l'ho mai aperto ne provato e andiamo a provarlo insieme cercare di capire cosa c'è non so cos'è allora scrolling speed cursor resolution ok va bene andiamo start new game perfetto prima di fare questa cosa però c'è il full screen user current setting non lo so vabbè andiamo così start new game name iota posso scegliere un guardiano uno shaper o un agente agente donna cos'è lo shaper non lo so benvenuto genforce seleziona uno di questi tre caratteri a sinistra usa il text box per mettere il tuo nome quando sei pronto premi ok ah eccoli qua i shaper sono schilati nella magia e invece i gardiani sono per la difesa vabbè shaper ci piace magia casual normal normal i shaper sono vecchissimi i più rispettati i più segreti segreti delle potenti ma arti magi delle sette magiche loro hanno la potenza il potere di creare la vita fico oh fico vabbè però ah ok perché ho tolto l'audio la musica e quindi è senza musica skip intro no? si ok ci siamo ma che figo isometrico oh don't send them any ability or items to use ho premuto semplicemente a ok come si muo... ah ok perfetto zoom no? ma adesso che siamo qui posso mettere un po' di musica piano? ok buono adesso ci siamo c'è un po' di musica 5 6 a 3 va bene eh ok ok cosa? cosa? cosa si... mi sono bloccato? no si ok non riesco a capire perché non c'è nessun tutorial e questa cosa scompare però va bene andiamo di qua c'è un path ehm... provo a muore il cursore e legge lo screen oh ok è shift 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 perfetto c'è un path oh cos'è? prendi gli oggetti stai vicino a un oggetto e seleziona metterlo in inventario ci sono dei... degli oggetti davanti a te raccoglierli questo qua eh... pack no? oh tasto destro fa sta roba ottimo eh... qual è il segno? questo è il segno della pace star combat dagger oh... eh... ability ok ma non mi dice... pack stand near the clock on the ground and press this button or type G aaaaaa quindi G per inventario eh... figo on the ground lo buttiamo qua vai perfetto quindi se adesso io faccio I inventario io lo posso indossare no? tipo qua ottimo qual è la sua cosa? praticamente è un rpg 9 libre 11 libre perché è libre? e non... in chili? c'è un tunnel a nord costruito in... dentro una... collina o roba del genere perfetto ma posso prendere questa pianta? no mancano i passi no WSD non si preme ok entriamo qua tool diamanti roba voglio questo container nothing ok si è aperta la porta si è aperta la porta clout bowl ma se io faccio così prendo tutto? doppio click e prendo tutto perfetto andiamo qui apriamo... cos'è questo? gia... giavelling... giavellotto giavellotto... ossa ossa e qui? niente questa roba qua cos'è? doors canister ci sono le porte a sinistra si aprono altre sono chiuse quando è aperta attraverso il segretto glow canister to enter the side ok perfetto c'è un ufficio a ovest e delle mensele non ci sono niente... oh che è tipo il narrato tipo questa porta qua è chiusa vedi? però fai così ploppe inside the small chamber you have several cylinder containers hmm le posso usare? che cosa ho combinato? when you open a canister the engine inside begins to open you you feel yourself ok troppa roba da leggere va bene ho preso sta roba ok si chiude poi c'è quest'altro aaaah quindi ne posso aprire solo una alla volta di questi cosi c'è passo di cocco qua c'è un robo per terra lo... G e ho preso un altro vabbè c'è una desk aaaah soldi desk e questo box vuol dire una varietà di fogli ok li voglio tutti dietro la chiave tu trovi c'è niente di valore tu provi a leggere i frammenti del giorno ma l'inchiostro è sbiadito ok c'è niente non c'è niente non c'è niente una burla e il fattore che devo scrollare col mouse avrei preferito vsd per la camera ma non è un problema tasto destro ci porta qua aaaah aaaah il fardo è in tonale il blocco è in stick pra 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 to get in close e pra 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 please please do not remove interact with Danny and then voice ok ah si apre così perfetto chi è questo aaaah ti volevo sparare il firebolto io non ho ancora capito quali sono i tasti aaaah wv firebolto w mele e aaa l'abilità non me li ricorderò mai però l'ambientazione non è male qui c'è qualcosa lo so lo so per certo infatti uno stick che trovi e una roccia ma scusa io non ho preso tipo questo qua javelin aaaah attacco speed posso metterlo qua beh non si sa mai c'è un cucchiaio pure io continuo a premere vsd comunque allora vediamo qua qua c'è un altro pezzo di legno i volumi sono terribilmente alti e fai una creazione you have not yet to learn to make creation aaaah si possono fare anche le creazioni beh figo qua cosa c'è ah c'è un coso qua eeeh il import pietre devi stare attento a controllare tutto perchè sennò ti scappano le cose la porta è chiusa attack the shade no no dai diciamo apriamo dai sei un fantasma ah ok ero un fantasma ok allora qua c'è una cosa tunica wooden shell cappello vabbè cappello pugnale c'è un pugnale qua g pugnale ma stai trovando le cose che già ho e qui c'è tanta roba però g no eeeh non c'è tanta roba ok quindi i la tunica correntemente ci abbiamo più due più uno questa qua non fa niente ma la posso mettere da qualche attava tipo qua no lui la mette qua questo qui cos'è qua bene questo qui è una spada che è 20 e 25 e 11 è la stessa identica cosa questa è la stessa identica cosa vabbè prendiamo la leva ho tirato la leva ho tirato la leva e adesso sono qua adesso andiamo di qua e qui c'è altra cosa ci sono altre ceste qui c'è un'altra leva che sicuramente serve per chiudere qualcosa poi io pull the lever mi ci piace prendiamo la leva qui c'è un'altra tunica tanta tunica qui abbiamo i giavellotti e un altro pugnale io prendo tutto perché io sono luttatore di quelli che proprio che lutta lutta sempre cioè ah qua 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 film qua film qua che cosa succede ha fatto F ah no pace ah ecco cos'è così inizio il combattimento così finisco il combattimento e sono in pace mod ok il simbolo della pace ok ho capito ho capito allora andiamo di qua cosa c'è qua niente il freccione qui c'è una pila di schife ecco 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 eh devo devo ammazziamolo ehm com'era? fa il bolto fa il bolto fa il bolto a lui vai do you want to si 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 fa il bolto ma che giavellotta così ma fa malissimo vabbè perché si è spostato cioè praticamente l'ho mancato F andiamo a luttare? no ma io volevo fare il bolto niente niente fa il bolto mmm un po' triste sta cosa che è il WSD eh però volevo fa il bolto niente niente non me li fa fare sono rimasto un po' deluso però vabbè e allora c'è il due pat sinistra destra sappiamo che di qua si torna di qua vediamo tanta roba robe spiere oh c'è qualcosa qua c'è la ciotola ciotola che che ho premuto casualmente G ciotola cucchiai sto diventando tipo Giorgio Mastrotta vendo pentole cacchio va bene qui c'è una cosa segreta qui c'è la cucina la cucina la cucina abbiamo spazzatura spazzatura cucchiai io vendo cucchiai sono tanti cucchiai qui c'è qualcosa però nascosto ma c'è una vadella e trash io lo so che alla fine sarò pieno pieno di trash lì c'è qualcosa però prima di andare lì andiamo di qua e c'è una leva premiamola eeeh nascosto short gatto g ingegnenne ma proprio niente ah c'era eeeh g non lo puoi premere quando c'è quello vabbè abbiamo preso sta cosa qui c'è il broccolanzo un cestino una pietra andiamo qua ooooh la tunica e un coso vabbè abbiamo la tunica che è uguale è uguale quale ci abbiamo ah una belta possiamo metterla qua ottimo perché ci salva la vita eeeh junk bag non l'ho capito però va bene eeeh quindi andiamo di qua ah quindi ci riuniamo alla salita di là ci dice robe eeeh andiamo qui vediamo cosa c'è qua soliti pietre bastoncini e qui i maiali ci sono i porci che non c'è lo z che fanno un rumore strano cristallo e mo il cristallo metto al posto lo spoon lo spoon lo metto qui e ci siamo no se io adesso no cioè io adesso potrei fare aaaah ok aspetta 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 dov'è la trash trash rob trash rob e trash rob hai capito? le ciotole most people doing it o facciamo o to to spoon sto baccone ok e qua non so perchè ma sono tentato di ucciderli questi qua ma c'è bizzeffe tipo ottimo f ammazzalo no 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 don't scapp devo camminare walk and kill great togliamo ho raggiunto il nord ho mangiato lui mangia vabbè ho preso due costolette di maiale buone su train are you ready to leave this region? no trana allora wik wik forza ma noi siamo un mago quindi mi serve intelletto essenza della mastrizia e poi cosa facciamo meccanismo stealth battle magic non posso fare healing craft vai vai abbiamo livellato signori no non voglio andare qua per adesso aspetta un attimo madonna però il fatto è che devi scrollare il mouse di là cioè uuuu abbiamo trovato un'altra cosa qua cos'è sta roba? invece è rotten qualcosa eiii de leva tools move it you need 3 cosa vuol dire 3? abbiamo bisogno di 3 copper disco tornos de leva è bloccata in questa posizione e tu non riesci a muoverla abbastanza lasciando il tool per muovere tu hai bisogno di 3 mmm living tools to move it you need 3 io non non l'ho capito cos'è il living tools questo è trash no g ecco mettilo nel trash qua ma questi non si possono staccare no mmm questo cos'è? tornos vabbè liviamo la regione vediamo cosa ci porta qua qua c'è una porta secondo me queste sono porte però no frattempo il nostro personaggio ogni tanto mangia si lasciamo la regione mmm questo è il mondo che si chiama sucia l'isola di sucia o sucia o susha qualcosa susha è un po' brutto e siamo qui e quindi qua c'è un villaggio andiamo qua travel e che è successo? set a quick use button ok abbiamo viaggiato e adesso possiamo andare qua c'è un grande ricord cos'è che ricordi? ricordi non ho capito cos'è però vabbè eeeh tanta roba ma ha scritto tanto questo qua un portale c'è subito portale brutti ah il portale brutti di cura e il portale verde scusate sbattuto il microfono ti da l'energia l'essenza della vitalità no g qua c'è supera 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 bricco bricco e tanta roba eh però io non posso portarle cioè nemmeno posso fare tutte ste robe qua io premo questo e questo qui premo uso questo penso che mi dia appunti di cose librone making creation the fiora codex quest insurcio giornale quindi adesso posso creare ma che è sta roba fire creation livello 3 senza 2 posso creare sta roba extra fire shaping skill skill with the type 1 tipo abilità cuore oppure voglio abilità strength update magical update passiva abilità innato asto fast recovery abilità questo ho creato ho creato lui mi segue adesso ho creato una cosa che mi segue no quindi adesso io posso andare in giro e uccidere tutti e questo qua il segreto dell'essenza di fiora segreto dell'essenza quindi adesso possiamo andare di qua e sicuramente ci faranno male perché c'è qualcosa che è tipo un mob che ci distruggerà e ci ucciderà e ci uccide ma farà male è una buona idea fare male io sto andando di qua e non so qua qua c'è un punto interrogativo ah il impulso ok ok how to fight select space ok space ah ci ha spiegato come combattere ahhh ecco qua fire e volto canna fear no 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 aspetta 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 non la posso fa ahhh lì si cammina insieme a me la facciamo così è morto è morto va bene è morto ho vinto quindi sono più forte questo qua io non ho capito ancora questo qua ma ce n'è un altro qua vabbè ma tipo sono hyper power cioè sono com'era per f apro questo le scarpe le scarpe ci servono la tunica com'è ma è sempre la stessa roba ma vabbè le scarpe dammi le scarpe la tunica ce l'ho qui ci sarà trash ground vabbè ma io c'ho il mega dinosauro cioè gli faccio malissimo qua cosa c'è trash trash tutta robaccia che secondo me non serve a niente io l'ho raccolta ma non serve a niente sta robaccia soldi a meno che si ricicla bella la pull of radiance citazione però veramente vsd per la camera la prossima volta attacco ma mangialo ma che è successo ah deve uscire dall'attacco mod sono in una stanza non usata e ci sono tante robe andiamo qui e naturalmente broche baton che cavolo è il broche baton torn baton io no alcuni termini non li conosco quindi faccio un po' fatica ah guarda qua i funghi i funghi no ma mangiali tutti uccidi mi ha fatto male dove ecco così impari ahahah ok andiamo di qua e vediamo cosa c'è qua ma sono troppo fuori ah grrr ammazzalo allora cammina qua e cammina qua adesso perchè non lo posso ammazzare eh lo sapevo io però oh ecco ma è duro questo forse forse ci uccide eh no non ci ha ucciso ma ci ha quasi no come faccio a ilarmi non si ila andiamo di qua c'è la cassettiera e apriamo la cassettiera e troveremo e e scarpe aspetta che queste sono meglio delle scarpe c'è lasciamo il vimini questo ce lo portiamo questo lo lasciamo ma è strano ah lo scudo ho capito com'è messo non l'avevo ancora capito queste le mettiamo e queste le mettiamo alla Chang Bag perchè sono brutte qui abbiamo un portale che ci dice note del combattimento sul combattimento apriamo questo cristallo che ancora non ho ben capito a che servono ne apriamo un altro c'è un gatto qua c'è un c'è una pull io radiance ha passato la quarantena questo? cosa è successo? quanto tempo fa è stata abbandonata tanta roba questo è tutto per te ok ma c'è una roba qua dietro tipo vabbè andiamo qua e aspetta ci sono libri qua vediamo G no G no madonna i miei tasti vabbè apriti Zedalo c'è un mago c'è un mago andiamo da questo mago tell me about Vakiri Vakiri sono isola abbandonata è stata fatta sharpening I will move on la conversazione finisce no basta il mio personaggio mangia e andiamo sì sì voglio andare in un'altra area vai travel ok ma questi sono paesani ue paesani keep watching vediamo cosa c'è qua awakening wishes ma time to kill Anong attenzione ma se io faccio così e l'uccido non mi uccidono sì voglio uccidere vediamo ah allora puoi morire adesso tutti quanti mi attaccheranno no? ma io sono invincibile bello con la spadina e vai 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 sono morto bello il finale molto bello bene bene naturalmente l'ho fatta apposta anche perché il è durato tanto e quindi non volevo spoilerare molto su questo gioco perché come avete visto è un storytelling rpg e naturalmente c'è tutta la storia dietro e sarebbe brutto spoilerarvelo ma mi piace finirlo così con la morte perché è bella la morte mi piace e secondo me è il miglior metodo per chiudere questa preview e come sempre tutte le preview non ho mai visto il gioco e non giudicherò il gioco lascerò a voi giudicare se vi piace oppure no e vi lascio qui in descrizione qui sotto il link di steam dategli un'occhiata secondo me merita un pochino come sempre potete supportare il canale lasciando un like un commento e se vi va iscrivetevi e come sempre siete mitici alla prossima bye bye